Sticcherello Per costruirlo prendiamo questa bellissima anguria, per esempio, scegliamo la parte che vogliamo colorare e stacchiamo la carta. Prendiamo la velina colorata, tenendo la parte colorata verso di noi, appoggiamo sullo sticcherello e schiacciamo la parte che vogliamo colorare. Togliendo la velina rimane il colore e così procediamo su tutte le altre parti. Prendiamo una velina del colore che vogliamo, schiacciamo sullo sticcherello Possiamo anche usare tutte queste formine. Sacchiamo la formina L'appoggiamo sullo sticcherello Prendiamo la velina E facciamo lo stesso procedimento Togliamo l'ultimo pezzo di carta E ripetiamo il procedimento Ed ecco il nostro divertentissimo sticcherello Sul retro si può staccare la carta e incollarlo dove si vuole Adesso che abbiamo realizzato la nostra anguria Proviamo a realizzare un altro sticcherello in modo molto più originale Stacchiamo sempre e togliamo la carta Prendiamo uno stencil a piacere E lo appoggiamo sopra il nostro sticcherello Poi prendiamo la velina L'appoggiamo sopra E premiamo sopra lo sticcherello E poi togliere lo stencil Poi prendere un'altra velina Appoggiarla sopra Schiacciare Togliendo la carta velina Rimane lo stencil Decoriamo poi l'ultima parte Sempre togliendo la carta E appoggiando la velina Abbiamo così il nostro sticcherello Da poter incollare dove vogliamo Togliendo la carta dietro Ecco tantissimi sticcherelli Da poter collezionare E attaccare dove preferiamo Troviamo le istruzioni Per realizzare tanti sticcherelli E anche tutti i tipi di sticcherelli Che possiamo trovare Grazie a tutti i tipi di sticcherelli Grazie a tutti i tipi di sticcherelli Grazie a tutti i tipi di sticcherelli